In questo particolare caso, parto caricando e poi invece andrò normale. Tiro un angolo 1, incrocio e tiro un diretto. Muovo bene le spalle anche. Mi copro, angolo 2, martello. Piano piano, vado accelerando, inizialmente da fermo. Amicino gli apporti, ok. In questo momento imparo a caricar bene i torbi, imparo a tenere sulla guardia e a muovere le spalle anche. Dopodiché inizierò a muovere, perché l'obiettivo del combat è sempre fare tutto in merimento. Tutto in atto. Poi un po' aggiungerò delle tecniche. Quindi, o faccio la mia combo, posso entrare. Grazie. 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 Grazie.